Ciao a tutti, allora video sul make up del mese, quindi il mese di gennaio allora siccome ho provato tantissime cose e ovviamente molte di queste sono comunque le stesse del quale vi ho parlato nei make up del mese precedenti allora ho deciso, anche per rendere più interessante il video, di mostrarvi nel make up del mese di gennaio essenzialmente le cose nuove che mi sono piaciute un po' di più diciamo che alla fine sono quelle con cui mi sono truccata perché devo dire che questo mese cose che ho utilizzato un po' contro voglia non ne ho perché sapete che a volte bisogna per smaltire un po' anche magari buttare dentro il calderone anche un po' di prodotti magari non amatissimi ma che non si vogliono sprecare e gettare via, quindi che si utilizzano comunque e io quindi di regola li metto nel make up del mese perché il mio make up del mese è il make up di quello che ho effettivamente usato nel mese e non per forza di quello che amo di più devo dire che però ho deciso soprattutto in questo mese, poi vedremo nei prossimi dipende se ci sono cose nuove anche per rendere un po' più interessanti i video perché se no uno a vedere sempre queste cose almeno io mi annoio e quindi ci sono tutte delle cose un po' più nuove di cui vi voglio parlare e che ho provato prima di iniziare vi volevo far vedere questa maglia meravigliosa che mi è arrivata da un sito che si chiama Zaful e vi lascio in info box il nome del sito, il link, il link dalla maglia e vi piace troppo, sono entrata ufficialmente nel mood, voglio la primavera e quindi anche nel mood righe, marinaio perché lo sapete che io mi trasformo insomma un po' in marinaio quando arriva la bella stagione e questa è meravigliosa è un po' tipo maglioncino però leggero tipo di cotone a righe rosse e blu e come vedete ha la manichina così cioè ditemi se non è bellissima cioè ragazzi io sono innamorata proprio è troppo troppo bella guardate cioè fantastica ha un po' una specie di macchia secondo me è tipo di polvere bianca la devo lavare, l'ho usata, l'ho messa su per farvela vedere però è bellissima va bene, bando alle cuancuole adesso che vi ho deliziato con il mio look possiamo iniziare allora da che cosa inizio? allora tante tante cose di cui parlare dunque vediamo intanto sto provando ad utilizzare non lo avevo mai fatto perché io vado sempre solo di pennelli per il fondo e per il correttore e la spugnetta questa è un po' zozza scusate ma anche se l'ho lavata adesso vabbè l'ho usata per il fondo di oggi però la lavo praticamente tutte le sere se proprio me ne dimentico è una volta ogni due giorni è quella di Real Technique mi trovo molto molto bene però rimane macchiata infatti sta cosa delle spugnette non l'amo particolarmente perché mi sembrano sempre sporche ma in realtà sono pulite vabbè comunque mi piace mi piace molto l'applicazione del fondo anche con la spugnetta quindi ecco ho utilizzato quella di di Real Technique per tutto il mese di gennaio perché avendola ricevuta in omaggio mi ero riproposta di vedere come mi ci sarei trovata e devo dire che niente male poi dunque facciamo passare subito velocemente perché non c'è molto da dire mascara questo lo rimetto perché mi piace talmente tanto che quando ho selezionato i prodotti ho detto no rimetti anche se lo fai vedere sempre Otro Juice Girl di Sephora lo sapete niente può equipararsi a lui mi è piaciuto tantissimo forse ve ne ho già parlato ma lo sto usando praticamente sempre in sostanza sto utilizzando dove l'ho messo dove l'ho messo vediamo se lo trovo sì allora un vecchissimo voglio proprio dargli una fine dignitosa perché è lì da secoli tanto vero che qua guardate è distrutto lo studio Finish Concealer di MAC nella colorazione NV30 uso intanto questo è un ottimo correttore ma va utilizzato assolutamente quasi in combo nel momento in cui lo mettete su con un contorno occhi cioè anche se voi il correttore il contorno occhi lo avete già messo nel momento in cui andate proprio a stendere questo prodotto qua io lo miscello un po' con un po' di contorno occhi come mi aveva suggerito una trucatrice appunto una MUA di MAC perché effettivamente se no può andarvi molto a seccare il contorno occhi quindi lo miscello con un anche un contorno occhi cioè ne ho certi che proprio non mi piacciono perché sono più che altro siliconici preferisco magari dei contorno occhi con più attivi e meno effetto figo ma che in realtà non sono trattanti ecco quelli proprio li destino a questo tipo di uso cioè quando la mattina mi lavo la faccia eccetera metto il mio contorno occhi poi se non mi devo truccare bon così poi quando mi vado a truccare a truccare mischio un po' di contorno occhi con il correttore e lo applico ed utilizzo dei contorni occhi piuttosto siliconici e metto che è una cosa molto strana per me il correttore prima del fondo con il mio solito pennello scusate eccolo qua di Real Technique il deluxe crease brush che io uso per appunto il correttore metto questo correttore e poi passo al fondo quindi praticamente il fondo lo metto con la spugnetta e quando arrivo a questo punto anziché rimestare abbondantemente vado a pucciare con la spugnetta a tamponare con la spugnetta in questo modo poi dopo che ho messo il fondo faccio il trucco occhi una volta che ho finito il trucco occhi vado a illuminare tutta questa zona a triangolo in sostanza così e anche un po' qua un po' qua un po' qua un po' qua insomma i soliti che avete visto mille volte e lo faccio con il prep and prime highlighter appunto nella colorazione light boost che è quella un po' giallastra è questo prodotto appunto con il pennellino mi piace moltissimo ce l'ho su anche oggi mi dà proprio un bel effetto che mi piace moltissimo poi vi faccio vedere delle matite matite che mi stanno piacendo moltissimo per gli occhi scusate se faccio caos rimestando ma se no poi mi dimentico le matite di cui vi voglio parlare sono queste si tratta di brand tutti costosi allora una matita pazzesca eccezionale meravigliosa che sarò tipo ricostretta ricostretta costretta a ricomprare perché io non l'ho comprata io ma l'hanno regalata però l'ho rovinata gli ho levato aveva una robina qua comunque vabbè la matita funziona perfettamente non è automatica ma è temperabile ed è la longwear eye pencil di bobby brown nel colore jet che è appunto il nero eccola qua questa matita è nerissima è resistentissima è non mi cola scrive perfettamente nell'interno dell'occhio top matita meravigliosa altrettanto mi piace moltissimo la Too Faced Perfect Black Perfect Eye Waterproof Eyeliner appunto anche questa bella nera anche questa mi regge tantissimo la scusate questa qua vedete sono tutte e due molto nere ottime matite ottime ottime una di queste due la dovrò ricomprare quando la finisco manomale che ho un bel po' di matite da utilizzare anche di MAC tipo che per i prossimi tre anni non dovrei comprare matite buonissime entrambe quindi Too Faced e Bobby Brown questa matita l'ho pagata una fesseria è di Ultima io non so come si legga Ultima 2 era un brand molto in voga anni fa poi non l'ho più visto io questa l'ho presa in quei cestoni tipo che ci sono in certe profumerie qua a Milano nelle profumerie Allsense se non sbaglio io l'ho presa in quella del centro commerciale di San Giuliano l'altro centro ed è una matita meravigliosa il colore è Extraordinaire Col Pencil Sunset numero 13 il colore è questo matita occhi guardate vedete questo marrone rossiccio quasi sembrerebbe un colore da matita labbra scusate che qua ho provato prima un rossetto quindi mi è rimasta la macchia guardate che cos'è a parte che l'ho pagata un euro ed è lunghissima mi dura benissimo ed è molto particolare cioè qua sotto quando ci vado a sfumare dei colori caldi è veramente wow bellissima e veniamo poi a una matita che proprio c'è la miglior matita della vita cioè non ho mai provato una matita così performante così scrivente figa perché è automatica quindi ha un tratto bello preciso mi è stata regalata da un'amica che non so io presumo che abbia una provenienza USA perché lei gira sempre molto e ogni tanto mi porta dei regalini si chiama scusate che è specchiata quindi non riesco a vederlo Effortless Coal Eyeliner nella colorazione Chestnut Brown questa matita automatica così è la meraviglia io a parte che non ho mai avuto un colore così bello quasi non la voglio usare perché cioè tipo è già quasi finita l'ho ricevuta gennaio si inizi di gennaio guardate questo è il colore testa di moro ma ragazze coi miei occhi si sposa cioè è troppo bello se avete un occhio scuro come il mio dovete provare questa matita ho visto sul sito che costicchia mi pare che siano 29 dollari e devo capire se in Italia la posso reperire devo un attimo informarmi perché non ho mai avuto una matita così bella e devo riaverla non ho un colore del genere un marrone così profondo così giusto nella tonalità non è troppo caldo non è troppo freddo non lo so è proprio e poi come scrive cioè proprio la passo qua sotto mi rimane proprio il tratto bello attaccato alle ciglia non mi sbava non mi sbava stavo dicendo è che sono tutta presa da questo entusiasmo bellissima una tra le no la migliore matita che abbiamo mai provato quindi insomma vi ho parlato di matite un po' care a parte questa che se riuscite a reperirla un euro cioè vabbè poi restando in zona occhi ho utilizzato tantissimo questi due che invece potete assolutamente reperire ai saldi e che secondo me sono la cosa migliore che Kiko ha in gamma si ispirano a questo tipo di matite che aveva fatto anche Chanel vi ricordate io per esempio ho la eccola qua la ecco lo stilo eyeshadow nella colorazione Jade Shore che erano quelli effetto bagnato effetto un po' anche fresh fresco bellissimi avevo preso il colore Giada che era veramente molto molto in voga qualche anno fa non so se ve lo ricordate e adesso Kiko appunto ha fatto questi che sono un shadow non mi ricordo di quale due collezioni ma comunque li trovate bellissimi valgono veramente la pena li trovate ad un'inezia io forse vorrei provare anche gli altri anche se questi qua secondo me sono i colori che rendono di più e sono lo 01 che è appunto quel colore platino meraviglia meraviglioso che forse addirittura andrò a prendere in un in un secondo pezzo perché poi uscirà di produzione ed è troppo bello io mi aspetterei che lo mettano che li mettano fissi ecco questi prodotti guardate quanto è super specchiato non è un oro non è un argento secondo me è proprio un platino e poi meno originale ma bellissimo lo stesso il numero 02 eccolo qua ve lo metto a fianco numero 02 l'ho usato anche questo forse anche di più dell'uno perché si attaglia molto con i miei gusti di smokey bello bello bellissimo poi se no mi devo anche spicciare perché ho una montagna di roba vi raccomando andate a vedere non so perché da Wacom non ci sono stata per i saldi se li abbiano messi in saldo sempre un po' con la stessa ottica di prodotto effetto specchio effetto bagnato effetto effetto fresco anche sono gli aquashade di questi mi piacevano tantissimi colori quindi se li hanno messi in saldo ne prenderò altri sono incredibili un po' meno pratici nell'applicazione perché sono così con lo spugnino ma ragazzi la bellezza di questi colori io avevo preso questo qua mamma quanto è bello l'ho usato parecchio è bellissimo ed è il numero 03 oro guardate meraviglia ragazzi meraviglia no devo prendere anche gli altri colori cioè non dico tutti ma devo prenderne altri e poi l'aquashade numero 02 bronzo quindi avevo preso oro e bronzo sono guardate il bronzo il bronzo è sconvolgente guardate no sono troppo belli meravigliosi da lavorare subito 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 subitissimo perché si strafissano sennò vi lasciano un effetto troppo delineato quindi lo mettete in una palpebra e andate subito a lavorare nella piega immediatamente magnifici poi uno dei miei vecchi amori io ho tanto sperato che Kiko riproponesse i color up long lasting eyeshadow in linea permanente erano dalla collezione di natale 2014 mamma che bello sto colore mi piacciono tutti quelli che ho preso ma questo colore è veramente super originale bellissimo meraviglioso è una sorta di tortora con del malva dentro guardate è proprio bello 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 questo io non so se si possa trovare in qualche come si chiamano outlet però ragazzi era il numero 10 era andato a ruba era piaciuto tantissimo a tutte e effettivamente è il colore che avevano fatto insomma il più bello che avessero fatto bellissimo lo uso sempre sono in paranoia perché mi finirà e sarò disperata poi ah sempre zona occhi ho usato tantissimo in alternativa al prodotto di MAC il pep and prime highlighter il non so come si chiama questo correttore il select moisture cover in NC20 che è molto chiaro per me però io l'avevo voluto prendere perché mi aveva consigliato una mua proprio per fare questo tipo di correzione cioè mettere sotto il corrector cioè quindi un correttore appunto che andasse ad annullare il colore delle mie occhiaie magari anche piuttosto aranciato e più scuro di questo e poi appunto il fondotinta sopra per andare ad illuminare e l'illuminazione l'illuminazione accendo la lampadina con questo prodotto anche se è molto più chiaro delle mie occhiaie ed ha un effetto bellissimo sfumato con la con la beauty blender bello 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 poi non so se ho finito in zona occhi perché poi ho una marea di robe no in zona occhi ho questo prodotto qua questo prodotto qua io credo che non lo facciano più perché berminerals non fai più questo prodotto questo prodotto si chiamava meteorite ed era un ombretto in questa forma che all'inizio pensavo fosse un po' sfigata in realtà è praticissimo anche Kiko li aveva fatti così non so se li ha ancora con questa specie di spugnettino che premi qua l'avevamo preso insieme io e Carlotta eravamo rimaste estasiate da questo colore e vi faccio uno swatch perché questo ombretto è bellissimo mi sembra a parte che li avrei guardate qua lo vedete spara a parte che quella volta li avrei comprati tutti quelli della gamma guardate uno due e tre cioè sono troppo belli questo prodotto costava perché non era economico ovviamente berminerals intorno ai 20 euro ma io li avrei comprati tutti quel giorno questo avevamo diciamo partorito l'idea che fosse il migliore io e Carlotta ce lo siamo comprate tutte e due lo uso da allora lo tengo sempre presente lo uso molto e mi piace tantissimo poi occhi ho usato molto stranamente perché pensavo che mi sarei buttata prima sull'altra quella con i colori un po' più particolari sto parlando della palettina di puro bio che mi è stata regalata per il compleanno dalle mie amiche e invece ho usato moltissimo questa qua che è appunto la skin tones 001 con questi colori matte nocciola chiarissimo marrone più caldo nero e oro per fare dei make up molto basici molto neutral ma molto belli perché i colori sono pigmentatissimi cioè vedete stra super mega pigmentati molto molto pigmentati molto bella sta palette molto morbidi un bel prodotto scusate che prendo afferro un fazzoletto un bellissimo prodotto io sono stati regalati non ho idea di quanto costi questa palettina ma è molto carina anche dal punto di vista del fatto che sia molto piccola quindi per esempio a volte oso portarmela in palestra anche se di regola i prodotti un po' più costosi magari le limited edition ho un po' paura di portarle dietro perché ho paura che si rompano però quella è proprio bellissima di solito facevo questa più la matita appunto di barberry e mascara sefora ciao a volte portavo appunto jet ho la matita di bobby brown appunto jet oppure quella di two faced per fare un eyeliner sopra da sfumare e ragazzi cioè veramente siccome sto usando molti rossetti importanti come sapete quest'inverno quindi alla fine un make up più neutral sugli occhi mi piace moltissimo vi starete chiedendo cosa ci faccio così coi cappelli raccolti insomma un po' diversa dal fotogramma precedente è perché mi ero dimenticata di mettere due prodotti che invece ci tenevo tanto che venissero messi nel video e che mi sono resa conto erano rimasti qua sul scrivania ho detto no li devo li devo mettere perché sono due prodotti della collezione 2016 primavera estate primavera non so se primavera estate comunque li trovate adesso di Dior e sono i Dior Show Color and Contour questo qui che hanno da una parte una roba tipo un long lasting stick eyeshadow quindi un ombretto in stick e dall'altra tipo una matita automatica io ho già fatto gli swatch ho due colori uno è orchid che è questa abbinata qua e l'altro è twig che è questa abbinata qua come vedete orchid che è il numero 757 è questa sorta di albicocca aspettate che lo swatcho magari un po' meglio ve lo faccio vedere vedete questo è il lo stick che è appunto questo colore albicocca magari cerco di ripassarlo così lo vedete meglio ecco eccolo qua vedete che è dall'altra praticamente la matita automatica vedete questa matita qua è questo colore marrone ma molto molto caldo come vedete quindi ha un bel sottotono rossiccio e mi piace moltissimo questo prodotto vi faccio vedere però prima anche l'altro che è questo bronzo doratino che è questo qua vedete e dall'altra ha una matita automatica però in questo caso con molto molto fredda eccola qua in pratica questi prodotti mi piacciono perché perché innanzitutto adoro i prodotti tipo long lasting stick e shadow di tutte le case purché siano di una buona qualità e questi veramente lo sono li mettete lì li rimangono non vi vanno nelle pieghe vi durano fino a sera come vedete io li ho swatchati da un po' posso tranquillamente andare a sfregarci sopra che da lì non si muovono quindi dovete nel caso sfumarli in maniera piuttosto veloce li trovo molto molto pratici perché in sostanza voi andate a utilizzare lo stick sull'occhio io poi vado a lavorare siccome i colori sono veramente molto belli non li uso come basi vado semplicemente con un pennello tipo questo così da sfumatura a sfumarne appunto i contorni e magari ad ammorbidirli con che so dei colori neutri molto spesso me lo porto dietro in palestra e porto questa palettina sto facendo un casino una palettina di catrice così con dei colori nude quindi vado ad ammorbidire il contorno con la polvere ma lascio nella palpebra appunto il colore dell'ombretto in stick poi vado a contornare con la loro matita abbinata un po' di mascara e porto solo la matita per le sopracciglia nel caso un po' di blush e un po' di ombretto né un po' di gloss o un rossetto se proprio voglio strafare correggo un po' le occhiaie con il prodotto di MAC quello che vi ho fatto vedere prima e lui il prep and prime e sono a posto quindi si costano ci sono i più economici dupe in giro kiko eccetera ma mi sono piaciuti veramente tanto i due colori insomma mi sono voluta concedere questi due questi due della collezione ma sono tutti molto carini molto belli niente vi lascio al proseguimento o al del video non so dove posizionerò questa clip comunque vi saluto di nuovo ciao ciao